vi auguro una serena notte arcangelo michele state lavorando a stretto contatto con questo potente arcangelo che vi protegge e vi guida in ogni situazione questa carta rappresenta una conferma di ciò che già sapete o sospettate l'arcangelo michele è accanto a voi in questo preciso istante gli arcangeli sono creature enormi e potenti che vigilano sugli angeli custodi e su tutti gli abitanti della terra qualunque sia il loro credo l'arcangelo michele il cui nome significa colui che è come dio è l'angelo che radica gli effetti della paura offre protezione a voi e ai vostri cari e infonde il suo coraggio e la sua energia qualora dobbiate intraprendere un'azione che vi intimorisce se state valutando l'idea di apportare dei cambiamenti nella vostra vita come cambiare il lavoro o mettere fine a una relazione chiedete a michele di guidarvi e aiutarvi a procedere senza paura l'arcangelo michele può aiutarvi anche a trovare il vostro scopo nella vita e può indicarvi i passi successivi da intraprendere sulla via dallo spirito e dalla carriera per accrescere il vostro coraggio e la vostra fiducia pronunciate con sincerità queste parole arcangelo michele io ti invoco porgimi la tua spada e il tuo scudo di pace e permettimi di fare affidamento alla tua forza e al tuo coraggio aiutami affinché io riesca a sentirmi al sicuro e protetto emotivamente fisicamente finanziariamente energicamente e spiritualmente grazie questo è il messaggio della buonanotte grazie a tutti grazie a tutti